Rieccoci in studio, bentornati a C'è posta per zam, zamchiocciolamoto.it è l'indirizzo email al quale inviare le vostre domande, le vostre critiche, le vostre considerazioni sul motociclismo da corsa. Ripeto, questa è l'unica trasmissione che viene fatta con le vostre email, quindi siete voi a scegliere gli argomenti da trattare e scrivete numerosi. Prima di continuare con le email, volevo leggere una interessante intervista apparsa sul sito internet gp1.com a firma di Ernesto M. Il titolo è Cecchinelli, la MotoGP che verrà. I test della nuova MotoGP 1000 o quasi di cilindrata sono iniziati con la mediatica prova di Valentino Rossi e Niki Hayden a Erez, venerdì e sabato scorso. Se è vero che Honda e Yamaha hanno già calcato la pista, è altresì innegabile che la Ducati sia stata la prima a far provare i piloti titolari, trasformando un test solitamente privatissimo e segreto in un avvenimento. Così come l'anno passato, tutti pensavano già al 2011, per quanto riguarda i cambi di casacca, culminati con il passaggio di Vale alla casa di Borgo Panigale, così quest'anno dal punto di vista tecnico non si pensa che al 2012 con il ritorno ai motori di un litro forse di cilindrata. Intanto c'è questa considerazione, questo dubbio che pone Ernesto Emmi sulla cilindrata, sappiamo che i motori potranno essere fino a 1000 di cilindrata, possono essere derivati dalla serie e devono avere questo limite dell'alesaggio che non deve superargli 81 mm. Questo vuol dire che se un costruttore deciderà di fare un motore 1000 di cilindrata, il motore avrà la corsa molto lunga e quindi questo aumenterà molto i consumi. Ecco perché secondo Ernesto Emmi molti costruttori potrebbero anche decidere di non fare un motore 1000 di cilindrata. Comunque andiamo avanti con l'intervista a Corrado Cecchinelli, Corrado Cecchinelli era un ingegnere della Ducati che è stato ingaggiato dalla Dorna proprio per le questioni tecniche. La domanda c'è chi si aspetta grossi cambiamenti nel regolamento tipo l'eliminazione o quasi dell'elettronica. I controlli elettronici sono un tema che non bisogna nemmeno porre, non è nemmeno pensabile tornare indietro spiega il tecnico. Ciò che si è fatto correttamente è mettere un tetto, cioè bandire le sospensioni elettroniche, proibire l'uso del GPS come input per la centralina. Nel momento in cui non ce l'ha nessuno si chiede lo proibiamo, passi indietro non se ne fanno. Anche perché l'elettronica è uno degli argomenti che interessano maggiormente le case, in un certo senso la loro remunerazione per l'investimento delle corse. Quindi Cecchinelli fa già una considerazione interessante, praticamente dice l'elettronica non potrà essere mai più eliminata dalle moto GP. La domanda è che senso ha tornare i motori da un litro dopo averli abbandonati per gli 800? La giustificazione per il ritorno ai mille è fare un motore con limitazioni che dal punto di vista formale siano poche e semplici, che consentano ad un costruttore indipendente di fare un motore che possa competere con le case. Introducendo delle limitazioni tecniche si fa sì che anche spendendo 10 volte in più non è che si riesca a farlo andare tanto più forte. Il motore 1000 darà un po' più di potenza, ma sarà soprattutto più facile da guidare, così da allargare la base dei piloti che saranno in grado di usarlo. Sarà anche meno costoso. Non c'è il rischio che un motore di serie alla fine vada meglio di un prototipo? Secondo me si può avvicinare alle prestazioni di un prototipo puro, ammette Cecchinelli, ma ovviamente ha ragione Filippo Preziosi, Filippo Preziosi è il direttore tecnico della Ducati, quando dice che un motore completamente prototipale sarà superiore. Non potrà avere il suo rapporto peso-potenza, anche se limitare il numero di motori limita anche la possibilità di farlo leggero. Cosa ne sarà della Moto2? Passa un'altra domanda. Dice mi sembra che la Moto2, che è stata una genialata, dice Cecchinelli, io qui non sono d'accordo assolutamente, diventa incoerente con una Moto3 che ha un contenuto tecnologico superiore, grazie alla varietà dei motori. Quindi si andrà verso l'introduzione di propulsori liberi anche in Moto2. In effetti questa sarà la tendenza. La Moto2 fra un paio di anni liberalizzerà il motore. Quest'anno, come l'anno scorso, sappiamo che vengono usati i motori derivati dal motore Honda 600. Io credo che fra un paio di anni verrà aperta giustamente la possibilità di utilizzare qualsiasi tipo di motore di 600 di cilindrata. Torniamo alle mail. Johnny dice, il titolo è significativo, ultimo giro, campionato del mondo. Dice, stavolta Valentino non si deve perdonare. Non era l'ultimo giro della gara e non era in ballo il titolo mondiale per un punto. Uno sbaglio non da campione. Secondo me la foga di far vedere risultati anche se la Ducati l'ha fregato. Stone si è comportato sin troppo bene. Pensate se fosse stato il contrario, Johnny. Questa è l'opinione di Johnny. Allora, sul fatto che sia stato tradito dalla foga è praticamente sicuro. L'ha messo allo stesso Valentino. Però non è stato uno sbaglio così clamoroso. È stato uno sbaglio che è diventato clamoroso nel momento in cui ha coinvolto anche Stone. Ma è uno sbaglio che in quelle condizioni ci può stare perfettamente. Passiamo a un'altra mail. Questa di Marco da Olgiate Olona. Dice, vedendo le ultime cadute di Valentino, ho l'impressione che con la Yamaha potesse a volte andare un pelo oltre il limite e fare mosse come i sorpassi di Barcellona 2009 o Laguna Seca 2010. Qua probabilmente Marco ha sbagliato e si riferiva a Laguna Seca 2008. Mentre con la Ducati, se superi un certo punto, si finisce per terra. Beh, questa è una considerazione giusta, probabilmente giusta. Stone ha detto tante volte che uno dei limiti della Ducati è che, ad esempio, se ti trovi in bagarre, non puoi cambiare troppo la traiettoria, devi seguire sempre quella traiettoria. Se no, si rischia questo famoso sottosterzo, cioè la moto tende ad allargare. È probabilmente vero, anzi è sicuramente vero, che con la Yamaha Valentino Rossi era molto più a suo agio, poteva effettuare manovre al limite o anche oltre, tipo appunto il sorpasso di Barcellona 2009 o quello di Laguna Seca 2008, cioè sorpassi che sono entrati nella leggenda. Con la Ducati per il momento è un po' più difficile, è sicuramente più difficile. Quindi concordo con Marco e mail da Gabriele. Dice, per la prima, sotto l'illino, la prima volta in vita sua Valentino sente di avere un avversario, due avversari, tre avversari, come era normale una ventina di anni fa. Dopo aver trascorso una vita agonistica in mezzo ad avversari, che solo una stampa benevola e foraggiata poteva ritenere tali, Gibernau, uno che non andava e non è andato mai, Biaggi e chi altri? Adesso Lorenzo è maturo e lo ha dimostrato. Stoner è sempre stoner, ma alla onda, ecco il peggiore incubo, arrivano avversari veri e patatrac. È come per tutte quelle storie che pesano su un altro sport, il pugilato. Gonfi un personaggio, bravo finché si vuole, ma non un dio, perché è un prodotto in grado di fornire introiti da capogiro. In questo sì Valentino è un campione, nel sostenere da solo l'aspetto economico di mezza MotoGP, che Speleta meglio non poteva pensare. Vabbè, dice, peccato che però che la gallina, ora sono arrivate le volpi, e proprio perché i volpi non guidano una Ducati. Ciao da Gabriele. Insomma, Gabriele è molto critico con Valentino, mi permetto di ricordare a Gabriele solamente che nel 2008 e nel 2009 questi avversari che ci sono oggi c'erano anche allora, c'erano Stoner, guidava la Ducati invece della Honda, c'era Pedroso che guidava sempre la Honda, c'era Lorenzo con la Yamaha, c'erano gli avversari con i quali si trova a combattere anche adesso, eppure il mondiale l'ha vinto Valentino sia nel 2008 sia nel 2009, sia in regime di monogomma sia in regime di gomma libera. È chiaro, sono d'accordo con te, che Gibernau e Biaggi non erano avversari all'altezza di questi campioni, di Lorenzo, di Stoner e di Pedrosa. Sicuramente questi avversari di oggi sono decisamente più forti, però questo non toglie i miei di Valentino che, ripeto, nel 2008 e nel 2009 li ha battuti in pista. Passiamo a un'altra email, Lele Egaia è firmata questa email, dice, il contatto Valle Stone ci sta, è una competizione, domanda, sbaglio o esiste un articolo del regolamento che prevede il taglio di corrente in caso di caduta, moto sdraiata? Se fosse così la moto di Valentino avrebbe dovuto spegnersi, che ne dite? No, non è così, non esiste il regolamento che impone che la moto si spenga in caso di caduta, è un regolamento che esiste soltanto nella superbike, quindi nel campionato per moto derivata della sede effettivamente la moto si deve spegnere quando si cade, nel moto mondiale no, per regolamento. Email da Isabel, no, da Carlo, scusate, qua è affermata Isabel, ma in realtà dice, ciao sono Carlo di Albiate, volevo dire che Valentino quest'inverno avrà dato dei consigli, ma non poteva sicuramente portarla al limite per la spalla rotta, quindi non poteva svilupparla nella sua maniera con cui ha fatto sognare negli anni passati, e questo sicuramente è un aspetto da considerare, ad esempio si parla tanto del, si fanno tanti paragoni, paragonando questo cambio con quello fatto nel 2004 quando passò Valentino dalla Honda alla Yamaha. Allora però c'erano molti più test, molte più giornate di test a disposizione, soprattutto Valentino era integro fisicamente, quindi la tua considerazione, Carlo, è corretta, Valentino ha potuto provare la Ducati a Valencia prima, e poi a Sepang, ma mai in perfette condizioni fisiche, questo sicuramente ha rappresentato un limite nello sviluppo. altre mail da Francesco, dice, sono convinto che la test di Stoner abbia fatto sempre la differenza, lui sale sulla moto, stacca la spina e si fida ciecamente dell'elettronica della moto, Ducati o Honda che sia, spalanca il gas, e se la moto sbacchetta, derapa, a lui non importa, perché attende fiducioso che il programmino faccia il suo dovere, e sicuramente questo atteggiamento non è da tutti. Questa è l'opinione di Francesco, l'opinione di Francesco, che è stata smentita dai fatti, recentemente, proprio nel Gran Premio di Gerezza, sia Capirossi, sia Dovizioso, hanno spiegato di aver avuto modo di poter studiare la telemetria di Stoner, Capirossi quella dell'anno precedente con la Ducati, Dovizioso quella di quest'anno con la Honda, ed entrambi hanno spiegato come che esistono sia in realtà dolcissimo con il gas, assolutamente dolce, molto più dolce di tutti gli altri piloti, che usa pochissimo il controllo di trazione. Quindi questa teoria di Francesco in realtà viene smentita dall'opinione di due piloti che hanno potuto seguire da vicino quanto fa Stoner in pista. In effetti, anche parlando con i meccanici di Chesi, da sempre loro sostengono che Chesi Stoner è uno di quei piloti che potrebbe fare a meno del controllo di trazione, tanto è sensibile nell'accelerare e nel dosare il gas nelle situazioni critiche. Siamo arrivati alla fine per questa puntata di C'è posta per ZAM. Settimana prossima, domenica prossima, si corre la terza gara del Gran Premio del Mondiale Superbike, si corre ad Assen, pista dove Menandri colse il suo primo successo ridato in 125, pista dove Biaggi ha sempre ottenuto buoni risultati, quindi speriamo di vedere un'altra bella sfida tra i nostri due piloti italiani che dovranno sempre vedersi la conceca, punto di riferimento del Mondiale Superbike in questo momento e in testa al campionato. Quindi scrivete le vostre considerazioni sul Mondiale Superbike e su tutto quello che riguarda il motociclismo da corsa e ci vediamo mercoledì prossimo sempre su Sport Action alle 23 canale 195. Ciao a tutti! Ciao a tutti!